carissimi ben ritrovati c'è area di vacanza nell'aria per me per voi per tutti quanti io sono ospite in compagnia degli specialisti del camper Gianfranco Coatto è qui accanto a me sicuramente saprà consigliarvi al meglio buongiorno buongiorno a te Sonia buongiorno a tutti quanti certamente siamo qui apposta per consigliarvi quindi venite a cercare il vostro veicolo ricreazionale qui presso l'Italia VR Group di Via Volta 29 a Druento e non solo io naturalmente ma tutto lo staff tutto il nostro personale è in grado di darvi e farvi capire che cos'è un veicolo ricreazionale peraltro tra quelli che trattiamo noi quindi top di gamma un'azienda seria un'azienda storica che lavora bene da tanti anni sul territorio servendovi al meglio consigliandovi e naturalmente un'azienda che rappresenta i marchi leader del mercato che noi ricordiamo allora che lavoriamo bene lo ha detto Sonia dovete questo dovete poi venire a scoprirlo anche anche voi ma lo dicono anche loro perché comunque insomma buonsangue non mente nel senso delle vendite il pubblico il cliente ti premia per questo e si vede assolutamente assolutamente sì però noi contiamo sempre che il parere del cliente per noi è veramente oro il cliente oggi per non per la nostra azienda ma per tutte le aziende è il vero capitale che uno può avere può mettere da parte quindi ci teniamo che la nostra clientela venga venga sempre più numerosa ci teniamo che gente nuova ci conosca e apprezzi quello che facciamo oppure ci critichi anche per quello che non facciamo ci mancherebbe altro in ogni caso Via Volta 29 Druento Italia VR per il vostro veicolo ricreazionale credo che sia in questo momento sul territorio di Torino il massimo che potete cercare. Imer, Buesner, Cartago? Carado e poi magari anche qualche altra sorpresa chi lo sa. Bene ma non ricordiamo cioè noi ricordiamo anche i nostri amici che ci sono tante tante offerte che riguardano il mondo dell'usato con dei tassi molto agevolati. Sì abbiamo per il prossimo mese quindi per il mese di maggio abbiamo dei tassi estremamente agevolati quindi chiunque voglia avvicinarsi al mondo del del plenare acquistando presso di noi un veicolo ricreazionale sicuramente troverà il modo anche per poterlo acquistare nel modo più agevole che oggi il mercato può offrire quindi abbiamo dei finanziamenti che sono veramente ai minimi storici in questo momento quindi vale la pena affrontare la spesa ma non affrontarla con denaro alla mano affrontarla comprando dilazionando l'acquisto. Bene allora occhio alla qualità di Italia VR naturalmente occhio al prezzo state con noi e giochiamo subito in casa. Assolutamente sì questo qui è un nostro pezzo storico Imer B class 524 questa è una versione top di gamma quindi colore completamente metallizzato e super accessoriato dall'antenna satellitare al portamoto venite a vederlo perché è veramente molto ma molto bello. Bellissima e introvabile la PUC 120 GT della classe Imer venite a vederla perché questo qui è veramente un gioiellino che solo qui da noi lo potete trovare. Sempre Imer ma in questo caso modello 4 fari venite a vederlo perché la disposizione 544 che era quella col divano fronte di net è una disposizione che oggi non viene più prodotta ma che però ha veramente tanti estimatori perché da un ambiente rende un ambiente decisamente grande per una misura contenuta che 6 metri 06. Per chi vuole invece un po' più posti letto ecco qui abbiamo un 6 posti letto su questo mansardato straordinario della Franchia. Granduca Garage della Roller Team questo qui mezzo straordinario su 3.000 di cilindrata a 160 cavalli 6 posti letto venite a vederlo perché sembra nuovo. Tenuto veramente in maniera maniacale questo semi integrale della Laica venite a vederlo perché veramente straordinario mezzo maneggevole agile veloce e soprattutto di altissima qualità. Per i puristi del plein air invece guardate che meraviglia che vi presentiamo qui questo Iveco daily accessoriato veramente di tutto punto. Se invece nel vostro plein air pensate che ci sia la possibilità del traino ecco voi questa Adria Optima che è una roulotte assolutamente affidabile che trovate qui presso di noi all'Italia VR Group. Bene non c'è che l'imbarazzo della scelta siete tutti invitati qui a Druento in via volta 29 anche solo per un caffè la cortesia è di casa e vi ricordo che se volete provare il mezzo anche solo per due giorni si può grazie al noleggio. Certo che sì abbiamo abbiamo aperto questa nuova diciamo branchia della nostra della nostra attività abbiamo messo dei mezzi a noleggio naturalmente sono dei mezzi della fascia premium quindi sono dei motorhome di fascia molto alta di mercato che però ci consentono di farvi provare un prodotto di eccellenza quale quello che noi trattiamo e apprezzare apprezzare e soprattutto capire se il plenare è il vostro modo di fare vacanza. Certamente sono sicura che sarà anche il loro modo di fare vacanza se proveranno anche per due giorni questo mezzo che tu metti loro a disposizione ricordiamo comunque anche l'assistenza il vostro fiore all'occhiello ci tengo va puntualizzato. Sì personale altamente qualificato personale che fa i corsi alle case madri naturalmente con con una certa coerenza con una certa regolarità venite a provare qualsiasi tipo di attività che la nostra azienda può svolgere e può essere utile al vostro al vostro modo di fare vacanza il vostro modo di fare di vivere il plenare vi ricordo gli accessori componenti ricambi l'assistenza la pena ricordata sonia in questo momento e vi ricordo il nuovo vi ricordo l'usato vi ricordo la possibilità di poter acquistare con delle agevolazioni con dei finanziamenti anche a 120 144 mesi quindi venite veramente a vedere che cosa si può fare per acquistare un autocaravan e un veicolo ricreazionale presso l'Italia VR Group. Bene la vacanza allora è cominciata grazie dell'ospitalità alla prossima. Sì grazie grazie a te grazie a voi vi voglio ricordare ancora il sito che è italiavr.it venite a visitarlo e se avete bisogno di ricambi accessori e componenti il sito di riferimento è ricambicamper.com. Grazie Gianfranco grazie a voi l'ascolto e come sempre linea la regia